buongiorno buongiorno fringuelli guardate che giornata sono le sette e mezzo del mattino sveglia praticamente all'alba bicicletta in macchina poi lavoro e poi venerdì sera si esce quanto è dura la vita del ciclo amatore beh è dura perché dobbiamo fare i conti con tutto il resto cioè il lavoro la famiglia tantissimo stress faccio un esempio stamattina mi sono alzato prestissimo per uscire in bicicletta perché altrimenti oggi la mia agenda era talmente fitta che non avrei potuto pedalare però per uscire in bicicletta mi sono dovuto sobbarcare questa piccola levataccia che ovviamente poi risentirò sicuramente stasera perché faccio questo video perché a volte è difficile tenere sotto controllo la stanchezza non parlo della stanchezza fisica perché se uno è allenato se ha uno stile di vita diciamo così sano sopperisce alla stanchezza fisica parlo della stanchezza mentale in quanto con il lavoro come dicevo prima con la famiglia con i ritmi stressanti delle nostre vite è sempre difficile quando si sale in sella essere freschi da un punto di vista mentale io mi metto nei miei panni da ciclo amatore scarso dopo 8 ore di lavoro dopo aver preso magari ondate di stress cazzi da tutte le parti salire in bicicletta diventa difficile perché magari mentalmente non ho voglia di durare altra fatica poi è vero la bicicletta aiuta a bruciare lo stress a rilassarsi però lo step esci dal lavoro ti cambi salti in bicicletta quello step lì a volte non sempre è automatico mi devo convincere mi devo convincere di farlo e non sempre ci riesco sono sono sincero da gennaio ho praticamente iniziato a stravolgere tutta la mia routine quindi ho cambiato la dieta ho cambiato abitudini adesso mi alleno prevalentemente indoor e una due volte quando ho tempo e quando va bene come oggi come questa settimana tre allenamenti indoor e due allenamenti all'aperto però vi assicuro che anche se sono molto motivato a volte la fatica mentale la fatica psicologica lo stress psicologico a volte mi dice ma Davide ma riposati cioè chi te lo fa fare per noi ciclo amatori questo è anche più difficile perché se come me non fate gare magari avete anche meno obiettivi avete meno stimoli lo stimolo però lo posso trovare come sto facendo io nel cambiamento nel senso cerco di motivarmi anche laddove non ho voglia nel dire guarda se pedali oggi magari migliori cresce la tua FTP cresce la tua resistenza allo sforzo stai bene dimagrisci perdi peso abbatti il colesterolo insomma guardate quante motivazioni ho trovato semplicemente senza fare gare poi è chiaro che chi fa gare ha uno stimolo in più però anche questo vi assicuro a volte non basta perché perché non essendo dei professionisti e avendo delle vite magari dobbiamo lavorare come tutti noi incastrare gli allenamenti sia per fare gare che semplicemente per migliorare la nostra condizione di salute a volte è difficile non ce lo nascondiamo l'altro giorno per esempio ero sui rulli stavo facendo il mio test FTP ci ho fatto anche un video proprio ieri il test FTP che ho fatto se non ricordo male a fine febbraio ecco lì ho durato una fatica mentale incredibile anche perché vedevo sullo schermo di Swift tutti questi numeri che si susseguivano a una velocità incredibile la frequenza di pedalata, il vattaggio, la frequenza cardiaca poi ero comunque nello studio quindi non ero certo in un ambiente stimolante non avevo nessuno che mi caricava ecco anche fare questi test ad esaurimento senza incentivi soltanto te stesso rinchiuso dentro un garage come è il mio caso non avere nessuno che ti stimola, non avere nessuno che ti gasa è molto difficile io a volte quando sono molto ma molto giù di morale quando sono molto stanco cerco di motivarmi da solo nel senso cioè cerco di trovare la forza psicologica dentro di me come se fossi un cavaliere Jedi parlo, parlo con me stesso dicendo guarda fallo perché questo ti serve a oppure stai andando bene forza Davide non mollare ovviamente cerco di trovare lo stimolo ovunque anche dentro di me cosa non da poco per esempio ho notato ma è una scelta su cui sono convintissimo e quindi non tornerò indietro che sotto sforzo o durante o prima dello sforzo quando assimilavo caffeina mi sono accorto che la fatica arrivava più tardi perché? perché la caffeina ovviamente stimola l'apparato cardiocircolatorio e non solo blocca anche i recettori della fatica io lo sapete per scelta da luglio 2022 non bevo più caffeina quindi devo sopperire anche diciamo a questo aiutino che la caffeina dava quindi per me è ancora più difficile sono sincero ma la cosa che ho notato è che spesso quando sono sui rulli e quando faccio questi test incrementali che ti portano letteralmente ad un esaurimento il segnale di fermarmi non arriva dalle mie gambe dal mio corpo arriva dalla mia testa e questa è una cosa su cui penso di dover lavorare molto cioè sento che il mio corpo avrebbe ancora magari altri minuti di sforzo che mi porterebbero ad avere altri numeri però mentalmente lo stimolo a spengere tutto a staccarmi arriva dalla mia mente questa è una cosa che dipende penso da moltissimi fattori che dovrei anche allenare fattori psicologici ambientali anche però la cosa che veramente mi fa riflettere è proprio questa cioè spesso e volentieri io mi trovo in difficoltà nel gestire la fatica mentale perché sono sicuro che il mio corpo avrebbe magari ancora non tantissimo ovviamente ma ancora un pochino da dare anche se sono un ciclo amatore scarso però la fatica mentale è l'ostacolo che non riesco a superare e noi a volte alleniamo tantissimo il nostro fisico ma dovremmo allenare di più anche la nostra mente a sopportare la fatica sopportare lo stress perché questo sicuramente ci migliorerebbe da una parte come persone e dall'altra ovviamente anche come ciclo amatori fatemi sapere voi quali strategie utilizzate per superare lo stress e per affrontare le vostre sedute allenanti anche in condizioni diciamo così non proprio favorevoli ok fringuelli ma Remma quanto mi avete fatto chiacchierare oggi però era un argomento che sentivo dentro e che volevo condividere con voi tra l'altro in modo molto semplice perché l'ho fatto come vedete prima di uscire in bicicletta quando sono ancora lucido quindi fatemi sapere che cosa ne pensate noi come sempre ci vediamo al prossimo video e sono curioso davvero di sentire i vostri punti di vista e magari ci potremmo confrontare qua sotto nei commenti proprio per creare anche una bella discussione su quali potrebbero essere magari i metodi, le strategie, gli escamotage le scorciatoie ecco che ognuno di voi utilizza e perché no condividerle e magari farne tesoro ok fringuelli mi si stanno congelando le mani io adesso vi saluto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao fringuelli